...della Polisportiva Castellini contro Marco Corazio della Pucilistica Chieti. Vogliamo salutare tutti i ragazzi appruzzesi che stasera hanno affrontato questo viaggio, sono arrivati da poco per ricordare questa sera insieme a noi il grande Pino Castellini. Allora, vediamo un po'. Ritengo che lui sia Marco Corazio, giusto? Ok? È quasi pronto? Dall'altra parte? Marco Rittone. Ok? Pronti per salire? Allora, vi ricordo che questi match si disputeranno ovviamente come sempre tra i dilettanti al meglio delle tre riprese, tre riprese da tre minuti, quindi avremo il primo combattimento e fra nove minuti circa, ovviamente compreso oltre l'intervallo.